Una gara d'appalto da 25 milioni di euro per un anno che potrebbe mettere fine al lungo periodo di proroghe concesse alla società Campana Tecra, attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città e nei comuni della SRR4. La famigerata gara ponte però rischia di slittare i sindaci della SRR4 sono alla ricerca di una centrale unica di committenza che possa portare avanti la procedura di gara a causa di una modifica normativa risalente allo scorso ottobre. Probabilmente infatti l'urega di Caltanissetta non potrà fungere da centrale unica di committenza e questo ha costretto i vertici della SRR a cercare altre centrali uniche. Venerdì è fissata una riunione per valutare un'opzione che si ritiene immediatamente attuabile gli atti di gara, sono pronti ma manca la centrale unica di committenza, ostacoli burocratici che potrebbero indurre ad attendere il nuovo anno ormai alle porte prima di passare alla celebrazione della gara d'appalto. Stiamo tentando di chiudere l'iter principale entro dicembre, spiega il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, che presiede la SRR. Purtroppo non potevamo prevedere questa modifica normativa, ci siamo anche rivolti all'Urega regionale. Tempi molto più lunghi invece gravano sul procedimento per la gara da sette anni che necessita di attività preliminari molto articolate dato l'importo a base d'asta che supera i 100 milioni di euro. Intanto Tecra continua a gestire un servizio che non può essere interrotto.